Il Kovacic che però può essere assecondato perché è subito coperto con la difesa dell'inizio Rakivic Modric Largo Mangiukic con calma di un'altra e poi Dida di lui Nicola Jörgensen Dida torna subito da Rakivic poi Modric avanza lentamente metro dopo metro la passia ecco cercando Perisic rispinto di De Azor nella zona di Rakivic che va a cercare la conclusione ottimo testo di Modric sulla treta la sua col grazie grazie questa palla potenta questo di più di questo tiro la giotera però forse sulla palla grazie a tutti 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 grazie a tutti